Buongiorno a tutti, in questo video presenterò le novità relative all'applicazione degli oscuranti nel caso di ECO BONUS e SUPER BONUS Quindi entriamo all'interno del menu normativa Gli aggiornamenti riguardano l'applicazione o no dell'oscurante Quali sono le casistiche che appunto ci consentono di applicare il valore termico dell'oscurante all'infisso? Quindi facciamo il primo esempio, se stiamo sostituendo al cliente solo gli infissi e quindi sono già presenti degli oscuranti Possiamo andare ad applicare quel valore all'interno della tipologia Quindi ricordo che è sufficiente cliccare nello spazio tra il simbolino verde e il nome della tipologia Che ci verrà richiesta la possibilità di inserire il valore di resistenza termica dell'oscurante abbinato Quindi evolgibile, versione ad alluminio e così via Nel caso in cui invece stiamo facendo un lavoro in cui sostituiamo sia infissi che oscuranti Allora il valore di resistenza termica non può essere applicato Questo perché la sostituzione prevede sia gli infissi che gli oscuranti Quindi le due cose dal punto di vista normativo non possono essere unite E quindi eseguire un calcolo termico dell'infisso comprensivo di oscurante Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro